Senta riaperta a Jesolo la spiaggia di Nemo, una spiaggia pensata per le persone disabili, l'unica in Italia gestita dalla sanità pubblica. Maria Piergiorgi. Nemo si chiama la spiaggia destinata ai diversamente abili e ai loro accompagnatori, i loro familiari, aperta a Jesolo, sulla renile, dinanzi all'ospedale. Parcheggi di fronte mare e ben 56 gli ombrelloni dedicati, provvisti di piazzole per la sosta di carrozzine, ma anche di bagni e servizio di salvataggio appositi. L'Ulss 10 con la spiaggia di Nemo è l'unica azienda sanitaria pubblica in Italia a fornire gratuitamente un tratto di renile dedicato alle persone fragili e già l'anno scorso, la sua prima stagione, ha ottenuto molti riconoscimenti da associazioni e denti. Per questa accoglienza l'Inail ha appena inserito nel suo portale superabile.it tutte le informazioni utili sulla spiaggia di Nemo, molte le prenotazioni anche dall'estero.